Zoepita nasce dalla passione per la natura e la ricerca di piante curative. A seguito di anni di sperimentazione ne abbiamo constato dei benefici. Per questo abbiamo unito professionalità ed esperienza sviluppando un prodotto unico e tutto italiano per condividerlo con voi. La cura con le piante è un'attività molto antica. Gli estratti ricavati dalle sostanze vegetali vengono usati da millenni per curare mali più comuni come infiammazioni, dermatiti e zemi. L'OMS ha registrato in tutto il mondo oltre 20.000 piante medicinali. Gran parte del nostro benessere dipende da quello che ci circonda, in primis dalla natura. Ma il benessere ha un'età? Certo che no! Tale benessere si raggiunge grazie alle percentuali degli ingredienti naturali e specifici. Per esempio nella crema pinso troviamo il rarissimo Tepes Gouret, fondamentale per rigenerare l'epidermide, utile per attenuare le lunghe, macchie della pelle, acne e altri inestetismi dovuti a stress o inquinamento. Mentre nella lozione benessere corpo abbiamo un connubio di piante, come ad esempio l'armica, partiglio del diavolo e boswellia, che come pianta svolge una potente azione antinfiammatoria, antileumatica, antinfiamatosa, ideale per gli sportivi e per chi desidera migliorare le proprie prestazioni fisiche. Il nostro obiettivo è stare vicino a voi e cocolarvi nel tempo, anche con novità future. Gioidità, miglioriamo la qualità della nostra vita utilizzando ciò che la natura ci regala.